Pensare al benessere del proprio corpo è qualcosa che deve accadere già da ragazzi. Nella sala giunta del comune ha preso il via il ciclo di incontri sulla prevenzione medica rivolto agli studenti delle scuole superiori della città. Un programma di sette appuntamenti promosso dall'assessorato alle politiche giovanili per affrontare con i ragazzi del triennio alcune delle patologie più diffuse alla loro età. Accolti dal saluto del sindaco De Magistris, questa mattina gli alunni sono stati a lezione di senologia con il dottor Massimiliano D'Aiuto, ma entro il mese di maggio sono previsti incontri con altrettanti specialisti per spiegare ai ragazzi come prevenire alcune malattie e fornire ogni tipo di chiarimento. A Napoli è la città d'Europa che ha il maggior numero di giovani e quindi è importante dialogare con loro anche perché la prevenzione è partita ai giovani, anche perché tra i giovani ci sono anche disagi, problemi, campanelli d'allarme, pensiamo all'obesità infantile che in città è molto forte, segno anche di una società consumistica che probabilmente stenta a scomparire e quindi siamo veramente contenti e come amministrazione comunale abbiamo favorito questo percorso culturale, sociale che vede nella salute un bene comune. Abbiamo scelto di ambientare a Palazzo San Giacomo queste lezioni per avvicinare concretamente gli adolescenti al mondo delle istituzioni, ha spiegato l'assessore Giuseppina Tommasielli, e di dedicarle alla prevenzione di quelle patologie spesso sottovalutate, con effetti imprevedibili e di particolare gravità. Lo screening di Regione Campania non è completamente fatto, c'è un tasso di percentuale di adesione intorno al 35-40%, perciò queste manifestazioni sono particolarmente importanti per far sì che proprio nei giovani si venga a estaurare la cultura dello screening. Le giornate di prevenzione in comune daranno diritto a crediti formativi e a fine mattinata gli studenti dovranno esprimere con un elaborato la loro esperienza, per spiegare ai coetanei le nozioni apprese. I progetti saranno poi valutati da un'apposita commissione e premiati al termine del ciclo di incontri.